Partiamo con l'Ispettore Generale di Gogol, con la regia Leo Muscato, con un grande attore come Rocco Papaleo, una compagnia di 13 attori, quindi un grandissimo spettacolo, importante, che girerà l'Italia per i prossimi 2-3 anni e quindi è una grande attesa per questo grande spettacolo di inizio stagione. Questo personaggio è un po' lontano da quello che ho fatto fino ad oggi. Un politico approfittatore, disonesto, un personaggio negativo direi completamente, forte con i deboli e debole con i forti. L'Ispettore Generale di fatto è una farsa travestita da tragedia, oppure dovremmo dire una tragedia travestita da farsa. Tutto si deve assolutamente reggere su un filo e gli attori in palcoscenico sono come dei funamboli che devono attraversare appunto questo spazio immaginario fra la platea e il palcoscenico. Sono anni che voglio fare spettacoli teatrali comici, venendo comunque dalla comicità, da vari percorsi che ho fatto io e non me lo faccio mai fare, sempre o il cattivo o l'assassio. Una volta che posso fare la parte comica mi diverte da morire e poi mi diverte proprio come idea perché è chiaramente uno che arraffa tutto, tutto quello che gli viene lo prende, quindi tutti siamo un po' così, in verità. Se possiamo farlo, quindi sono contentissimo. La sfida è stata quella di trovare il modo di raccontare le due cose, sia un esterno, quindi l'esterno di un paesino fatto di una sola strada, probabilmente disperso nel nulla, l'aspetto del ghiaccio, della neve e appunto quello delle porte una vicino all'altra che si vedono nei paesi. Ci siamo inventati di usare sia colori che direzionalità di luce che creano allo spettatore una suggestione del freddo, del cupo, di questo ambiente, usando appunto una luce un po' più surreale. In caso del rispettore generale, trattandosi di un luogo molto lontano, molto freddo ho prediletto insomma quelli che potevano essere i materiali dell'epoca che anche storicamente dalla ricerca storica sono emerse. Ovviamente lane, indumenti pesanti, pellicce che essendo nel 2023 mentre ovviamente abbiamo utilizzato sintetiche, ma che all'epoca invece erano ben pellicce vere per ripararsi oggettivamente dal freddo. Stiamo attrezzando anche per far sì che questo quadro che noi vediamo lo riportiamo dappertutto in tutti gli altri teatri. Adesso che stiamo facendo l'allestimento ci organizziamo per come partire. Meglio fai qui e meglio ti ritrovi dopo in tournée. Siamo riusciti a mettere insieme per questo rispettore generale una compagnia molto ben assortita di attori che sono abituati a passare dal tragico al comico in maniera anche abbastanza semplice. Grazie.